La popiglia japonica ha messo capo all'ippodromo del galoppo di San Siro trasferendo parte del calendario milanese alle bettole che sono dunque pronte alla ripartenza. La prima corsa è quella di maggior dotazione monetaria cioè il premio delle aste condizionata per due anni in scena alle 15.40 di mercoledì 15 settembre con appena 4 puro sangue al via. Il bottiano camerlengo ancora imbattuto e affidato a Dario Vargiù dovrà vedersela con il re del criterium varesino Some Respect di Pietro Barbarito e Giampiero Soccini che sarà montato da Fabio Branca. Il fantino di Cala Gonone è stato protagonista di una rissa con Claudio Colombi che gli è costata 3.180 euro di multa e 40 giorni di sospensione ma lo stop scatterà solo da domenica 19 settembre. Dunque Branca prima della lunga squalifica tenterà di essere nuovamente protagonista alle Bettole dove lo scorso 31 luglio aveva vinto il criterium proprio con Some Respect cavallo della cocktail che ha chance per ripetere il successo di un mese e mezzo fa.